Hola a tutti ragazzi, è il vostro Luke e oggi finalmente siamo arrivati qui in questo video in cui parlerò di un progetto davvero tanto importante Piccola premessa raga, per portare avanti questa disposizione di video, diciamo così, questo nuovo format Mi raccomando lasciate davvero tanti like E inoltre ragazzi devo fare un'altra premessa Siccome a causa di un incidente per un lavoretto fatto in casa mi sono provocato un danno alla spalla Ciò che vuol dire raga, che devo stare due settimane fermo con il braccio destro, sembra fatto apposta ma così è Una settimana è passata, questa che viene adesso, ossia da lunedì a domenica dovrebbe essere la conclusiva incrociando le dita Perché è davvero un dolore abbastanza forte e faccio fatica anche ad editare Quindi per sapere se dopo i like che avete lasciato questa serie di due video al giorno andrà avanti Seguite il canale Telegram che trovate in descrizione raga Soprattutto perché questa serie di due video al giorno ragazzi si strutturerà così Il pomeriggio, ossia verso l'una e mezza, classico orario, caricherò un video ma di Minecraft Siccome il mio canale è dedicato a Minecraft, maggiormente porterò un video di Minecraft Mentre la sera ci saranno video di diverso genere Che possono essere Rocket League, può essere un vlog ma per adesso ancora no perché devo attrezzarmi con la videocamera Può essere appunto GTA V, FIFA 17, Car Mechanic Simulator, GSQ, adesso altra roba non mi viene in mente Tipo Rocket League, quindi ragazzi c'è davvero un'ampia scelta di giochi Voglio portare questo nuovo format per i video, fatemi sapere cosa ne pensate Soprattutto quel video che devo fare riguardante lo youtuber falso che qualcuno mi ha seguito in live ieri raga Per chi vuole nella live di ieri ho lasciato nei commenti il minutaggio dove all'incirca parlo dello youtuber Un minuto in più, un minuto in meno cambia ben poco Detto questo ragazzi mi raccomando lasciate like, commentate il video, condividetelo ma soprattutto Iscrivetevi al canale, ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi